no non mi è tornata la voce volevo solo farvi sentire a che punto sono al punto di partenza oggi il medico dovrebbe cambiare la terapia e passare dal cortisone agli antibiotici comunque iniziamo con la puntata di oggi per le palestre gennaio è il mese con il maggior numero di nuove iscrizioni perché al numero uno dei buoni propositi di inizio anno c'è dimagrire anche se spesso la gente dice che vuole mettersi in forma perché c'è un tabù nei confronti del grasso che viene considerato una modalità malata del corpo perché chi è grasso non riesce a controllarsi nel mangiare cominciamo allora a vedere come è nata la famosa tabella dell'indice di massa corporea il metodo usato per creare le etichette che vanno da sottopeso a terribilmente obeso la tabella se l'è inventata un paio di secoli fa da uno statistico che ha misurato il peso e l'altezza di militari dell'esercito francese e scozzese quindi maschi dell'europa occidentale del 1800 ora capite bene che io ho un rapporto peso altezza diverso da quello di un soldato dell'esercito francese del 800 capite anche che maschi e femmine hanno una diversa distribuzione del grasso infatti galleggiamo in piscina in modo diverso perché il grasso del mio corpo femminile è distribuito in funzione della maternità e questa è solo una delle differenze tra me e il soldatino francese vogliamo poi parlare della diversa alimentazione eppure la medicina usa l'indice di massa corporea per decidere chi è grasso e una volta che c'hai l'etichetta di grasso tutti si sentono in dovere di dirti cosa fare per dimagrire perché si sa se solo i grassi avessero un po di forza di volontà potrebbero tranquillamente dimagrire giusto no sbagliato chi lo pensa ignora che noi abbiamo il potere di decidere sul nostro aspetto fisico solo in parte perché invece un ruolo determinante ce l'hanno i fattori genetici per cui non possiamo proprio farci niente ai fattori genetici poi se ne aggiungono altri altrettanto estranei alla nostra volontà come ad esempio lo stato sociale e il livello di istruzione dei nostri genitori o il paese in cui nasciamo persino il quartiere che determina l'accesso che abbiamo a cibo buono a prezzo accettabile tutte cose estranee alla nostra forza di volontà ma determinanti nel decidere la nostra massa corporea ecco perché un sacco di gente che vorrebbe dimagrire non ci riesce nonostante tutti gli sforzi perché c'ha un sacco di fattori indipendenti dalla sua volontà che remano contro e allora ecco il buon proposito basta usare la parola al grasso come parola in codice che vuol dire persona che non riesce a controllarsi nel mangiare e usiamola invece per quello che è una rappresentazione fisica espressa in chilogrammi così come i colori descrivono occhi e perché non siamo soldatini francesi dell'ottocento